Questo qui è un bolide che oramai ha i suoi 25 anni, penso che oramai sia storico più che ultimo grido. Una tradizione per i genovesi ma non solo, sono in molti a ricordare fra i giochi dell'infanzia quelle gare fatte con i carretti, tanti anni fa costruiti questi mezzi con quello che si trovava e poi erano le corse giù dalle discese a fare il resto, il più bello. Così dopo 30 anni è tornato lungo quelle del Righi, il 69esimo Gran Premio Indianapolis, primo Memorial Yuri Colorito, giovane universitario deceduto nel 2000, simpatica impresa per Goliardi e non. Dopo 35 anni finalmente siamo riusciti a organizzarla di nuovo con ovviamente tutte le modifiche della sorta perché la sicurezza va modificata, perché ovviamente è cambiato il metro anche della sicurezza sulla strada, degli asfalto, dei mezzi che devono transitare sulle strade stesse, ovviamente ci sono problemi per i mezzi pubblici eccetera. Era veramente e fortemente voluta da noi, dall'università, dal CUS perché era una manifestazione che per tradizione genovese era ovviamente da ripetere. Perché è bella questa corsa? È bella perché è particolare, è una cosa molto particolare perché è strano in Genova vedere una cosa del genere ed è bello perché è radicato nella nostra storia, nella storia della nostra città ed è bello per quello ripetere. E questi ragazzi hanno reso ancora più bella l'iniziativa con la loro grande voglia di divertirsi per la corsa anche gente da fuori Liguria. Grazie a tutti.